Lo studio Priority durato quattro anni con un investimento importante da parte del Ministero della Salute è stato portato avanti dall'ospedale Santa Croce insieme con l'Istituto Superiore di Sanità e il Dipartimento di Epidemiologia dell'Università di Torino il cui scopo era vedere che cosa succedeva ai pazienti operati di bypass a orto coronarico a dieci anni sul territorio nazionale. Essenzialmente ha consentito di identificare i fattori che portano il paziente a morire prima nel lungo termine ha permesso di creare dei calcolatori che permettono di stimare il rischio di una persona che oggi verrà sottoposta a un intervento di bypass a orto coronarico. Questo modo di lavorare attraverso i dati e non attraverso le impressioni è sicuramente il futuro della scienza e il futuro della medicina. Credo che questo studio rappresenti davvero un passaggio metodologico epocale in quanto si porta alla valutazione dei risultati di quelle che sono le nostre cure su una scala molto ampia con un'attendibilità molto ampia per un periodo molto lungo. Molto utile anche perché i risultati del priority serviranno anche ai decisori per poter definire quali sono effettivamente le tecniche e le tecnologie che possano essere applicate nel curare i pazienti proprio alla luce del numero e della qualità delle complicanze che questi pazienti andranno a sviluppare poi sul lungo termine che sono appunto i dieci anni. L'ospedale continuerà a mantenere nei prossimi anni una centralità in tutti questi studi nazionali che verranno portati avanti insieme ad Agenas e all'Istituto Superiore di Sanità.